Aspettiamo la convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Se non arriverà, manifesteremo compatti a Torino. A parlare sono i lavoratori della FPT di Pregnana Milanese e del gruppo CNH, che da circa due mesi si stanno opponendo al piano di ristrutturazione del gruppo industriale, che prevede la chiusura dello stabilimento milanese e lo spostamento della ricambistica nel torinese. Due mesi di scioperi, manifestazioni e tavoli di confronto con l'azienda anche presso il Ministero. Due giorni fa l'ennesimo incontro in sede regionale, dove i sindacati hanno presentato alla dirigenza aziendale un piano alternativo che garantirebbe il lavoro per la metà dei dipendenti attualmente in forze. La parte aziendale presente al tavolo non ha né rifiutato né accettato il piano alternativo elaborato dai lavoratori, rimandando la valutazione agli organi tecnici competenti. Stamattina invece l'Assemblea dei lavoratori con la parte sindacale, dove si è deciso di aspettare la nuova convocazione al tavolo. Questa volta però da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che se non arriverà porterà i lavoratori a manifestare contro la chiusura a Torino.